Radio Radicale, siamo con Sergi Alekseyev, deputato ucraino di Solidarietà Europea, che è una forza politica di opposizione, che si trova qui in Italia per degli incontri istituzionali. Allora, con Alekseyev, l'onorevole Alekseyev, e con l'aiuto di Oles Horodetsky, che noi conosciamo perfettamente, vogliamo capire a che punto è la guerra, se c'è in corso un'offensiva ucraina e soprattutto che possibilità di pace ci sono anche con la Santa Sede o se la guerra proseguirà. Allora, qual è ad oggi la situazione e soprattutto le volevo chiedere la prima cosa, se vede la Russia divisa in difficoltà di fronte a questo conflitto. «Яка є зараз ситуaція? Я хотів вас запитати, чи ви бачите Росію, яка має певні трудності, яка є поділена при цьому конфлікті?» «Ситуація зараз, можна сказати, що набагато краще, ніж була на початку війни». «La situazione, ora, possiamo dire, è molto migliore rispetto a come era all'inizio della guerra». «Завдяки зброї, яку нам надали наші європейські партнери Сполучени Штати Америки, в тому числі завдяки той зброї, яку нам надала Італійська Республіка. «Граці alle armie, che sono arrivati dai nostri partneri europei ed americani, incluso anche la Repubblica Italiana». «Україна досягла значних успіхів у цій війні, і вже перемога Україна, і повне звільнення території – це питання часу. Вони не зупинятись і надавати нам все більше, більше потужної, сучасної зброї, яка значно перемагає російською». «Україна ha migliorato moltissimo la situazione per sé in questa guerra, і la nostra віторія, secondo me, è la questione di tempo. Importante non abbassare i ritmi e aiutarci con le armie». «Дуже показово був останній місяць, коли Київ неодноразово був обстрілений не лише дронами, а, як кажуть росіяни, сучасними ракетами, типу «Кінжал», які начебто неможливо було вразити. Але завдяки «Патріоту» всі, геть усі ракети були знищені, жодна не дістала свої цілі за останні місяці». «Є дуже significативо було в останні місяці, коли Русі бомбардав Київ, la Капиталі, не лише з дронів, але й з арми дуже sofистикати, come, per esempio, «Кінжал», що, secondo її, ці арми не були вважними, але, звісно, до «Патріот» системи «Патріот», не сумісіли і рішити окульпірувати його». Як я бачу Росію, я бачу, коли, після перемоги, ми впевнені, що паде режим Путіна, тому що йому не буде чого казати своїм громадянам, його впаде режим Путіна, впаде його пропаганда, яка основана лише на цій війні, тому що рівень життя дуже низький, в Росії вже почались протестні настрої певні, але все ще люди залякані, коли вони побачать, що насправді сучасний європейський і цивілізований світ перемагає Росію, ну, скажімо, режим Путіна, то в Росію паде режим Путіна, і Росія буде зовсім інша. Per quanto riguarda la situazione in Russia, sono sicuro che dopo la vittoria il regime di Putin cadrà, perché lui non avrà nulla più di vendere ai propri elettori, perché la sua propaganda, diciamo, il suo potere si basa appunto su questa guerra, sulla sua forza, tra virgolette, e vediamo che si abbassa il livello di vita, e ci sono già le proteste per questo, e sicuramente dopo la caduta della Russia, il regime di Putin cadrà. Allora, ci sono dei russi, dei partigiani russi, che si battono contro Putin, ci sono dei sintomi di difficoltà del regime interno che abbiamo visto a Belgorod. Voi siete intenzionati anche a invadere la Russia, a sconfinare, a seguire una strategia un po' più aggressiva in questa fase? C'è partigiani, che non sono davvero il regime di russi, e ci sono questi momenti che abbiamo visto in Belgorod. C'è voi допostate agresione e per russi di 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 russi? Україna ніколi non aveva pretenzioni, nessuno di pretensi suverene i territori di altri paesi l'Ucraina come parte dell'Europa è una verità europea e nessuno non si tratta di altri paesi l'Ucraina non ha mai avuto le pretese territoriale nei confronti degli altri paesi l'Ucraina come un paese europeo perché fa parte dell'Europa geograficamente rispetto ai continui territori gli altri paesi i quelle personalizzato devono essere sicure che ci sia noi noi ciissanze siamo'rendio c'è questo siamo rilas escrevi siamo rilas ovviamente sonoanche tini sono rilas i noi i parati sono più précIT i Le armi che ci danno non sono le armi di invasione e non sono le armi di guerra, ma sono le armi di pace, le armi di difesa. Noi quello che vogliamo fare è ripristinare l'integrità territoriale ai confini del 1991, compreso la Crimea e Donbass. Lo faremo e mettiamo un punto finale a questa guerra. Lei chi ha incontrato qui in Italia? Se lo vuole dire, ovviamente se gli incontri sono coperti da segreto, io non la voglio forzare. Volevo sapere se venendo qui ha pensato a dei contatti con la Santa Sede per cominciare ad avviare il dialogo e soprattutto che cosa avete capito che ha fatto il Vaticano in questi mesi? V'ha ravi la mamma di non aver fatto tempo alla sua visitazione in Italia. V'ha ravi la pagata, se sì vi ho chiesto anche per la sua pagata, se non si trova un contesto con Vatissima? V'ha ravi la pagata, per l'interno di via quelli che fabalh la contatta del Vaticano? Durante questa visita non avevo contatti in Vaticano, avevo alcuni contatti nel Senato e nella Camera dei Deputati. Io sono coordinatore del gruppo interparlamentale Ucraina-Italia e sono in contatto con Ugo Capellacci, sono anche amico suo, che da parte italiana è responsabile di questo gruppo. Io avevo incontatti con Radicale parte, che non avevo alcuni contatti in Kiev. C'erano i cittadini in Kiev, dovevo incontrare i cittadini in Kiev, abbiamo incontrato l'affizzo europeo e abbiamo incontrato l'idea di cui abbiamo incontrato l'argomento. Il loro radicale italiani sono stati in recente visita in Ucraina e li abbiamo accolto negli uffici della solidarietà europea. Ho apprezzato moltissimo le loro iniziative, per esempio quella del ritiro immediato delle onoreficenze conseguite ai rappresentanti del regime di Putin. In realizzazione delle idee radicale partite ho preparato un'esplosione per l'italiano di Nauca e Capolaci e ho preparato un'esplosione per il Presidente dell'Italia. Per l'italiano di Nauca e l'Italia, i repubblici dell'Italia, inizia a questa iniziativa dei radicali italiani, ho fatto i miei appelli al senatore Ucra Pelacci e agli altri colleghi e anche ho chiesto al capo del nostro Parlamento di fare appelli agli colleghi istituzionali italiani per iniziare in pratica la procedura di richiamo delle onoreficenze ai russi. Soprattutto per esempio il pescovo. Cosa si sa dei bambini deportati in Russia? Quanti sono riusciti a tornare? E soprattutto quanto è alta, secondo lei, l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale? Soprattutto per l'italiano di Nauca. Soprattutto per l'italiano di Nauca. La storia dei bambini deportati è proprio un genocidio del nostro popolo. Noi abbiamo informazioni che in Russia sono stati deportati 19.393 bambini. Ma è un numero assolutamente lontano dalla realtà perché sui territori occupati ci sono ancora circa 200.000 bambini. e noi non abbiamo nessuna informazione per quanto riguarda la loro situazione, dove si trovano, come stanno. l'Ucraina fa di tutto per tornare in Ucraina. Già una parte è tornata e collaboriamo con i nostri partner internazionali per poter tornare a casa. L'ONU si è interessata abbastanza, secondo lei? L'ONU si è interessata abbastanza, secondo voi? Sì, c'è un grande problema. E' un problema molto grave. E' una barbaria pensare a una cosa del genere nel XXI secolo, che le persone possono essere messe alle torture del genere. Lei ha perso qualcuno in guerra? C'è un problema. 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 I deputati del Parlamento? E'焊 Noi abbiamo avuto la sessione del Parlamento e il Parlamento era aggrimito, era pieno, tutti i deputati erano presenti. Ah, e dopo due tigioni, quando era la prossima decisione, un nuovo, più di questi deputati, diciamo, si sono arrivati e io ho capito che l'Ucraina si vede, oltremente ho capito che l'Ucraina si vede, perché abbiamo molto sicurezza dei громadi che, rischiavano la vita di l'Ucraina. E dopo due settimane, quando c'era la seguente sessione del nostro Parlamento e quando si sono presentati la grande maggioranza dei parlamentari, ho capito definitivamente che noi vinceremo, perché ho visto questa consapevolezza dei nostri cittadini. Senta, dall'Unione Europea, dagli altri paesi dell'Europa, sono venuti dei volontari per combattere contro i russi? Z Europa, z altri paesi dell'Unione Europea, sono venuti i russi per combattere contro i russi? Так, ovviamente, c'è molti angliano. È un po' di chiama добrovolti, che utilizzano i nostri sposti, che prima di cui ci sono i nostri sposti, che 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 sono i nostri sposti. Sì, certo, ci sono molti cittadini, soprattutto di Gran Bretagna e altri paesi del continente europeo, che hanno avuto esperienze militari nel passato e sono venuti a combattere contro i russi per l'Ucraina. Per me è un grande onore e io sono molto riconoscente sia a loro che ai loro familiari. Per questo azione. Tutti capiscono che in realtà la Russia combatte non contro l'Ucraina, ma contro il mondo occidentale e civile. Noi combattiamo per valori europei e sicuramente vinceremo. Il popolo pacifista che vuole la pace, che però significerebbe anche l'annientamento dell'Ucraina. Ostanze domande. Як ви знаєте, в Італії є багато політиків, політичних рук, які виступають проти відправки зброї до України. Чи ви знаєте, знайомі, можливо, з представниками цих рухів? І що ви думаєте про цих pacifistів, які виступають проти війни, але насправді це б означало захоплення України і Росії? Ну, я знаю про те, що є така проблема в Італії, що намагаються приготувати референдум цього приводу. Sono a conoscenza di questo problema italiano e so che anche stanno cercando di fare una specie di referendum su questo. Але, наприклад, навіть вчора під час зустрічі, я зустрічався в Джуліо Терцій, це Сенат, з депутатами Палати Парламенту, Сера Бертобан'яська і т.д. І вони мене запевнили, що не відбудеться ніякого референдума і всі політики, влада, уряд італійський, коаліція парламентська, всі розуміють, що поставляти зброю на Україну – це правильний рух. І якщо буде поставляти зброю на Україну – це зброя миру, а не зброя вини. Ieri ho avuto incontri con alcuni esponenti del Parlamento italiano che mi hanno rassicurato che sia la coalizione del governo, che diciamo in gran parte del mondo politico italiano sia consapevole che aiutare all'Ucraina, cosa vuol dire aiutare all'Ucraina con le armi? C'è una scelta giusta che sarà continuata e loro pensano che non ci sarà nessun referendum, perché anche la popolazione è consapevole che queste armi sono le armi di pace, le armi della difesa e non dell'attacco della guerra. А тим людьми, italійським politикам, які виступають за припинення поставки зброю, можу сказати одне – якщо припинити стріляти Россия – закінчиться війна. Якщо припинити стріляти Україна – Україна буде захоплена і Россия піде далі на Європа. Ai politici che sostengono questa politica «pacifista» di non invio le armi all'Ucraina, voglio dire una cosa. Se la Russia smette di sbarare, finisce la guerra. Se non avremo da sbarare noi, l'Ucraina sarà occupata e i russi andranno avanti. Ми можемо бачити – зі своєї зброї Росія стріляє по мирним населенням, по дітям, жінкам, старикам, по повністю руйнує житлові квартали, міста. Ми все це бачимо. А Україна зі своєї зброї, яку нам надають наші партнери, стріляє лише по російським окупантам, по російській армії, техніці, і ні в якому разі не помиримо населення. Noi abbiamo visto che la Russia, con le armi proprie, spara su civili, su bambini, donne, con la gente inerme, bombarda le città, pacifiche, distruggendo edifici. Invece, Україна, con le armi fornite dai partner occidentali, noi cerchiamo di colpire solo obiettivi militari, uccidendo gli invasori, uccidendo gli occupanti e risparmiando le vite dei civili innocenti. solo l'armi che si trova sul territorio dell'Ucraina. E volevo sottolineare questo fatto solo sull'esercito russo che si trova sul territorio occupato dell'Ucraina. Cioè, invasori che sono entrati sul territorio sovrano ucraino. Quindi la formula è molto semplice. se l'Ucraina avrà le armi al livello delle armi della Russia riusciremo a fermare questa guerra e mettere il punto finale a questa guerra. Se l'invio delle armi si fermerà non si fermerà la guerra la guerra sarà sempre più feroce perché la nostra arma è di difesa e non di attacco. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per essere stato ospite a Radio Radicale. Ringrazio Sergi Alekseyev deputato di Solidarietà Europea partito di opposizione che comunque sostiene il governo ucraino in un momento di unità nazionale. E ringrazio anche Olez Orodeschi che mi sbaglio sempre a dire il nome scusa Oleg. Allora, vi ringrazio per la vostra disponibilità e spero di vedervi la prossima volta in una condizione diversa quando la gente non morirà più. Grazie. Grazie. Posso fare una posta? Sì, come no, certo. me la potete mandare dopo? Io ti posso lasciare il mio numero così mi scrivi bene alla prossima.